E' una decisione improvvisa. Ho preso un mese di ferie. Ha un posto importante. Lavora con tutti i pezzi grossi. Ma questo potrebbe irritare la femminista che è in te. Io non sono femminista. Sennò come farei a sopportare gli uomini come te? Tu devi fare questo, devi fare quello. Ma nel frattempo la vita ti passa davanti. La devo arrestare. Ma dov'è la chiave? Mio padre mi ha fatto uno stupido scherzo. Hai deciso di rovinarmi per caso? Se sta parlando di suo padre, io che c'entro? Ma sei diventato matto! Buonasera. Ho bevuto una birra. Si può imparare veramente tanto dai genitori.